Ragazzi questo è un video su come passare la quarantena su Rainbow Six C'è un video sui Ciao Questa 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 Se no se no scrivi Ma è freddo La prossima devi mettere questa Bellissimo Bellissimo Luz Che Nanne Nanne DUNNY! DUNNY! Metti questa a me Metti questa a me Ah 6 7 8 8 8 9 8 8 9 9 10 ho finito preciso uno qui ok questo è il segnalino uno due e un altro qua vai il bello è che noi stiamo pingando mafiero non vede dove pingiamo vai faccio no lo tocca a me ho giusarini e incantesimi contro di me oh quanto è bello eh stai un po' sgravando verso di me vai 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 c'è il colpo l'occhio smonca miro tommy miro pieno lo faccio esplodere miro tommy faccio stup stupi e prendo va a 10 360 piazzo il tiro spugnato poi prendo la mitraietta sparandolo a tutti lì miro tommy no ragazzi fa così guarda fai esplodere il quattro boom hai fatto una cosa rendita così allora mo mi faccio vedere la mia tecnica allora si lancia la granata si lancia la granata si lancia la granata si gira si tira il martello e si spana perché mi sono fatta espadra la dossa all'acrino faccio così faccio il fake plant del pilota finata chiaro questo colpo di pompa lì smiro girando giro smirando via allora si fa così guardate si fa così scendi giù scendi giù si è coltellata si è coltellata si è coltellata si è coltellata si mira si mira si mira si mira eh non so niente ok a me mi fermo allora allora ok a me ne serve uno guarda ti fa così ti fa così ti fa così fermi per me si inizia a facciare vedete qui attenzione fermi 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 poi ti fa così i calci hai ma secondo this dai con me resta primo caso di la faccia da un'altra cosa ma non ti metto e pesce ma non ti metto non c'è il malala un'altra il risultato calcio la voce è morta te lo esci fuori io però almeno provo a quick stop no no via ma guarda come ti stavo provando a fare io guarda che stavo facendo io dai no No, c'è la bomba, c'è la bomba Io guardo, io guardo Valkyria, io guardo Valkyria, spotta pure la bomba Io pure guardo Valkyria, che bel culetto No, spalla da Piotrini Stavo a dare i trisisti verso Piero Ah, io a Piotrini, a Piotrini, a Piotrini Piotrini, a Piotrini Piotrini, a Piotrini, a Piotrini Piotrini, Piotrini, a Piotrini Oh, che devi girare, non è che mi devi coltellare Entrerà uno prima o poi Ho qualche dubbio Ma, c'ero No, no, one bullet in by vista No, no, uscio il granadolo No, il fumo No, ci stavo provando da otto anni Uno è entrato alla fine, no? Risco di sparare Tommy, non so perché Ma dov'è? Ma, ma fatta non voglio, mi scusa Ma perché all'home entra Tommy Cioè, o è vicinissimo a entrare a Tommy O è vicinissimo a entrare a Piero Oddio No, ragazzi AIA Sì, è entrato, no, mi riguardi, eh Oh Cazzo Oh, no, ragazzi, ma che che mi fa? Ma Piero, ma che bastardo è forte No, fermo, Piero, fermo, Piero Ma Tommy è tipo un pazzo, che è sicura Trickshot col prossimo Ma io ho due colpi, ragazzi No, dai No, no, mi dobbiamo fare No, vedi colpi, che stai facendo fare? Eh, scherzo, favi l'arma normale Sbriciolando, sbriciolando Sbriciolando, ciao, ciao, fratellino Sbriciolando E sbriciolando Tutto Ma lo faccio prima che esce Prima che viene individuata No, poi io provo a uccidere Tommy Ci devo riuscire in trickshot No, poi io provo a uccidere Tommy Ma Piero, ma Tommy, ma perché tu, io voglio vedere questo bellissimo Voglio vederlo È un trick, non è un trickshot questo, Tommy No, Perù Non è un trickshot Neanche i tuoi Questo non è trickshot Ma come non lo fai apposta, tu vuoi dire che non spari apposta a una persona Ma non pensavo di prenderlo Ma che vuol dire, l'hai mirato, l'hai preso, Germa Raga, ma abbiamo vinto Non ho trovato i miei avversari Ma io sì L'abbiamo vinto Ma abbiamo vinto 3-0-1 4-0-1 Ma come cosa? No, no Si è unito e ha abbandonato Tranquillo Ma scusa, i nostri avversari? Non ci vedi Se confermate veloci abbiamo vinto Conferma Perché abbiamo bannato Perché abbiamo bannato Conferma, conferma Confermate, confermate Abbiamo vinto Abbiamo vinto Avevo vinto Mi torino a tavolino Sono arrivato secondo Ma perfetto Per l'occhio ultimo 4-1-3-2-1 1-2-3-4-4-3-1 mammals ARAAAA non me ne privo e me ne privo Grazie a tutti